minchia 3.000 euro dov'è la scatola? ok va bene quella lasciala a me poi lasciamela subito come la pensa? ok dai ragazzi veloce il veicolo dentro dentro sul portellone un altro con me qua davanti da questa parte da questa parte di qui lascialo aperto lascialo aperto vai entra ok ci stiamo ci stiamo eh feli così boom ci siete? ci siete? andiamo 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 appena inizierà l'ingaggio questo verrà aperto subito dopo quello subito a sinistra nel passato subito a sinistra nel passato non si sa mai no? mi raccomando quindi prima scendiamo noi no prima scende lui poi scendiamo subito noi più 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 che saranno anche da dietro eh saranno tutti da dietro va bene intanto sono un'osservazione un'osservazione bim bum cazzo mi hai segnato da 5 anni cazzo cazzo non è senso da 5 anni cazzo cazzo è tipo una cosa più beccata vero? non è bello con la beccata bim bum così vuole aggiungere la direzione cazzo quando ci siamo andati a fare nel campionovara eravamo sei dietro il cosiddorio della cazzo eravamo in 5 dietro a tutti mecciso di cazzo ci siamo entrati così in paese per andare a casa del nostro amico sono arrivati gli altri? altri? che ce n'è uno? ma loro dovevano arrivare quando noi cioè loro dovevano arrivare già alla posizione vabbè non fa niente ho capito io spero solo che non siano posizionati anche a sinistra perché se no io dovremmo aspettare se loro ci veste non c'è niente lì lo so infatti non l'abbiamo aspettato ma niente noi facciamo l'attacco ci porto al lente che dovremmo aspettare allora vedo uno allora è uno hanno cannato no no va bene lui deve stare a sinistra eccolo lì un altro ok fermo la macchina fermo fermo esploso esploso giù 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo due centrali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.